Io credo, spero che le cose vadano bene, ci siamo impegnati in questa organizzazione. Il prefetto di Venezia, con i responsabili vari della sicurezza, ha fatto il appunto sull'organizzazione della G20 dell'economia nella città lagunare la prossima settimana. All'arsenale gli incontri ufficiali dalla 7 all'11 luglio. Quella sarà una zona off limits, ma il resto della città avrà limitazioni ridotte. La città non può essere chiusa. Noi abbiamo fatto questa scelta proprio per la città. Una città aperta, una città accogliente, come lo è sempre stata, anche in occasione di un meeting così importante, così delicato. Dando la possibilità anche a chi è contrario di manifestare le proprie idee liberamente, però pacificamente. Noi abbiamo cercato di tenere al minimo le limitazioni alla libertà di movimento delle persone. Tutti i ristoranti saranno aperti, tutti gli esercenti avranno la possibilità di lavorare. Non abbiamo infierito, diciamo, dal punto di vista della sicurezza sulle chiusure. Quindi la città sarà una città godibile, disponibile, come ne è sempre stata. Ci saranno dei problemi inevitabili perché il meeting è un meeting molto importante, molto sentito e quindi delle precauzioni noi abbiamo dovuto prenderle. Però io credo che le lamentele saranno limitate questa volta.